Trasformare un maschiaccio in una principessa è facile! Serve solo l'insegnante giusta! Due amiche si incontrano al bar. Una è una giovane donna elegante femminile con maniere squisite e l'altra è un po' sopra le righe. Batti cinque ragazza! Ehi cameriere, voglio una pizza extra large con triplo formaggio! Dai, datti una mossa! Finalmente il mio cibo è pronto! Melanie, la mangerai tutta da sola? Oh, i miei poveri occhi! Stai preparando un burrito con la pizza? Oh no, non dirmi che lo mangerai così! Questo è un crimine contro le buone maniere a tavola! Ascolta Melanie, conosco questa scuola di fascino! Penso che potrebbe esserti d'aiuto! Bello, grazie! Avevo proprio bisogno di un tovagliolo! Sono coperta di salsa! Melanie ha una cotta per Teo, ma ha un modo strano di dimostrarlo! Oh, Teo, sei divertente! Melanie gli ricopre la faccia di sputi! E sta usando la sua gamba come un sacco da box! Melanie, guarda, la scuola di femminilità sta ancora accettando candidate! Ti aiuterà di sicuro! Ma Melanie ha priorità diverse! Una bibita gratis! Sto arrivando! Finalmente il maschiaccio incontra la direttrice della scuola di femminilità! Wow! È un modello di grazia, eleganza e maniere perfette! Benvenuta alla scuola di femminilità, Melanie! Sono la preside e ti insegnerò tutto quello che so! Wow! Guarda le sue incredibili scarpe da ginnastica! Sogno di avere delle scarpe simili da quando ero piccola! Sentiti come a casa tua, Melanie! Iniziamo la tua trasformazione! Lavorerai con la migliore coach del mondo! Ho addestrato molte celebrità ad avere buone maniere! Ah, dove sarebbero finiti questi ragazzi senza di me? Peyton! Non toccare le star! Tutte queste persone sono diventate famose solo dopo aver finito i miei corsi! I miei adorabili studenti! Trasformeremo anche te in uno di loro! Per iniziare, cambiamo i vestiti! Una vera signora non dovrebbe vestirsi come una giovane Justin Timberlake! Hmm, cosa dovrei scegliere? Penso che questo vestito carino sarà perfetto! Provalo! Wow! Melanie sembra completamente diversa! Ora sembra la pronipote di una regina! Quel vestito è perfetto per lei! Stai molto meglio, Melanie! È ora della tua prima lezione! Preparati, faremo musica! Una vera signora dovrebbe essere in grado di intonare perfettamente ogni nota e suonare strumenti musicali! Ah, penso di aver scaldato abbastanza la voce! Siediti, iniziamo la lezione! Impareremo la quinta sonata di Justin Beethoven! Ups, il mio strumento! Non importa, la musica nella mia anima non può essere fermata! Torniamo alle origini! Ho registrato questo disco di platino con Madonna, quando era la mia corista! Ascoltiamolo! Ah, oh no! Le mie orecchie! Madame Preside, per favore, spenga questo classico immediatamente! Non mi piace! Suppongo che dovremmo solo trovare il tuo strumento! E la chitarra? Che cosa? Melanie, che stai facendo? Mi rovinerà il disco! Anche se mi piace! Melanie, questa prossima lezione è molto importante! Ti insegnerò l'arte del flirt! Come mostrare a un ragazzo che ti piace! Guarda e impara! Wow! Ecco la prima regola! Guardalo dritto negli occhi e prova a conquistare il suo cuore con un solo sguardo! Vedi? Ora sta arrossendo! È cotto! Ora tocca a te! Melanie cerca di usare gli occhi per mostrare al ragazzo che le piace! Ma niente, va per il verso giusto! Ho paura di lei! No, Melanie, così è sbagliato! Fagli l'occhiolino! Ti aiuterò! Un po' di lime! Ah! I miei occhi! Eccoci, ha funzionato! Gli piace il suo occhiolino giocoso! Ma il lavoro è lavoro! Prendo questa sedia come garanzia! Ciao ragazze! Bel lavoro, Melanie! Stai facendo grandi progressi! Iniziamo le nostre lezioni in passerella! Una buona camminata è ciò che distingue una donna da un maschiaccio! Oh no, Melanie, basta! Stai camminando come una gallina incinta! Hai bisogno dei tacchi! Ecco, indossali! Ok, bene! Ah, di nuovo gli esattori! Dopo porteranno via anche me e la mia sedia! Ok! Uh, finalmente sono mie! Le mie sneaker dei sogni! Melanie non se ne accorgerà! Neanche i tacchi hanno aiutato Melanie! Sta camminando come un sollevatore di pesi in Louboutin! Melanie, prendi questi libri e mettili in testa! Questo ti renderà più intelligente e manterrai una buona postura! Non dimenticare l'inchino! Adesso cammina, principessa! Cammina! Nemmeno la grande letteratura può migliorare la camminata di Melanie! E senza speranza! Oh, basta! Tanto non mi piacciono i libri! Dove sono le mie scarpe da ginnastica? Le rimetterò! Oh, cielo! Mi è andata male! Una vera signora deve imparare tutto sull'equitazione! La nostra prossima lezione riguarda le attività equestri! Sono pronta per iniziare! Dov'è il mio cavallo? Eccolo qui! Quel vestito ti sta benissimo! Muoviti, Melanie! La preside deve salire! Bene! Corriamo! Un corso di cucina raffinata! Dai, Melanie! Mostraci i tuoi talenti culinari! Eh? Madame Preside vede le sneaker dei suoi sogni ovunque! Ma questa è solo una baguette! Ha le allucinazioni! Ricorda, Melanie, la cosa più importante è cucinare con il cuore e con l'anima! E fare una bellissima presentazione! Madame Preside trita elegantemente gli ingredienti sani! E Melanie cucina usando solo la sua intuizione! Frullerò tutto e sarà una bomba! La lezione è finita! Confrontiamo i piatti! Madame Preside ha preparato un'insalata improvvisata! Che cosa ha fatto Melanie? Mmm! Cos'è questo? Melanie! I frutti di bosco non sono posizionati alla perfezione! Devo dirti tutto! Mio caro maschiaccio! Questo è l'ultimo giorno della tua educazione! Congratulazioni! Hai completato i tuoi studi alla scuola di femminilità! Ora puoi pagare! Ecco il conto! Guarda tutti quegli zeri! Non posso permettermelo! Beh! Immagino di poter accettare i pagamenti in scarpe da ginnastica! Ti farò uno sconto! Arrivederci dolce Melanie! Mi sono divertita moltissimo a insegnarti! Mi ricorderò sempre di te quando guarderò le mie nuove sneaker! Ora l'educazione di Melanie è finita ed è una donna perfetta! Aspetta Melanie! Hai dimenticato il certificato! Hai completato l'intero corso su come diventare una vera donna! Ognuno è bello a modo suo! Ti è piaciuta la nostra trasformazione da maschiaccio a principessa? Allora commenta qui sotto e dici se vuoi studiare alla scuola di femminilità! E ragazzi iscrivetevi al nostro canale! Mettete like a questo video e fate click sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo video divertente di WooHoo! Grazie a tutti.